campagnola alice eco è un abbacchiatore con l'asta in carbonio allungabile con la testata per raccogliere a doppio rastrello poi c'è l'asta allungabile poi c'è il motore power eco il filo che viene fissato passando nell'apposito passante e poi per farlo funzionare semplicemente basta una qualunque batteria auto questa è quella che ho comprato insieme allo scuotitore ma qualunque batteria va bene si attacca prima il più in rosso poi si attacca il nero e ci siamo con una batteria da 60 ampere di questo tipo normale da auto sono riuscito a fare tranquillamente una giornata più o meno il caricabatteria mi diceva che c'era ancora quasi metà della carica usandolo più o meno mattina e sera quindi basta e avanza per un uso normale per farlo partire è sufficiente premere lo vedete qui l'apposito tasto che da 0 a 1 adesso vi faccio vedere come funziona ecco che l'abbiamo acceso vedete che i denti hanno questo movimento a doppio pettine ellittico che è veramente efficiente l'ho usato per tre giorni e devo dire che raccoglie veramente bene non si incastra tra i rami avendo il doppio pettine non gli scappa nulla e vedete ha un angolo d'uso che ricorda un po il pettine il rastrello quello in plastica per raccogliere a mano perché vedete che non sono in punta seguendo la direzione del palo ma sono a quasi 45 gradi adesso vi faccio vedere dei filmati dove si può usare sia a pettine quindi andando dall'alto verso il basso sia un po a baionetta quindi andando a infilare dentro nella pianta vi faccio vedere che funziona molto bene in entrambi i casi tra l'altro essendo abbastanza stretto il rastrello riuscite anche ad andare abbastanza facilmente in mezzo all'intricato magari anche di olivi non perfettamente potati come era il mio caso e devo dire che nonostante siano su due livelli non mi si sono mai incastrati tra i rami quindi è una macchina che perdona magari anche diversi modi di usarla magari più diretti o meno diretti ma sostanzialmente non ho avuto nessun problema durante i tre giorni di raccolta il filo è molto 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 lungo e quindi può andare ovunque fino alla batteria riuscite tranquillamente a fare il giro della pianta sia da una parte che dall'altra senza nessun problema quindi il filo è assolutamente sufficiente filo non si impiglia devo dire che questo sistema non crea problemi quindi veramente nulla da dire se devo dire forse l'unica piccola miglioria il tasto che è un po piccolo da da premere se una sui guanti nel mio modello il manico in carbonio allungabile vedete che con una sola mano riesco ad aprire il fermo poi cerco di fare tutto con una mano e voilà vedete che anche morbido si riesce a fare è molto molto allungabile fino esattamente le dimensioni alla lunghezza dichiarata così può uscire ancora un po ed è veramente ben bilanciato quindi anche quando siete su in alto in alto in alto in alto devo dire che la distribuzione dei pesi tra motore e testa è molto ben fatta e si fa veramente meno fatica quindi è veramente comodo sia quando è chiuso che quando è aperto dopo tre giorni che l'uso ho raccolto un 5 quintali di olive questo scuotitore è ben bilanciato raccoglie anche quei rametti con le olive quei rametti penzolanti con le olive che si va sempre molta fatica con questo sistema dei doppi denti non vengono giù e si fa veramente poca fatica quindi non trovo veramente punti dei quali lamentarsi funziona veramente molto bene quindi Grazie per la visione!